Ciao a tutti! Finalmente Cocò sto andando a prendere l'albero, non vedo l'ora di prepararlo come potete vedere io già mi sono portata avanti e ho preparato questo sono le palline insieme alle altre addobbi che metteremo su e adesso non vedo l'ora che entra con l'albero, che iniziamo a prepararlo sono davvero davvero contenta e veramente ripeto e continuerò a ripetere e non vedo l'ora mi piacciono? sono una renna adesso guardate, 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 guardate e questo lo farò mettere a Cocò non lo so ancora, l'ho preparato adesso quindi sarà una sorpresa a dopo Salve, adesso cosa stai facendo? sto mettendo la barba all'albero la barba? ma come non si fa così? nooo cioè, ascolta dai mettiamo la sciarpa che stupidino ma no, ma non si fa così ah, eccolo qua, finalmente è arrivato mamma mia adesso ci sarà da fare guarda amore cosa ti ho portato qua? oh oh, questa schifezza ma che schifezza eh, c'è che? oh, babo Natale facciamo il pallo scrochi dai, iniziamo ad aprirlo, facciamo vedere dammi le forbici dammi le forbici ah, eccolo qua e adesso inizieremo a montarlo oh, è contento? oh, ma come? in Natale è una cosa bellissima si sette ore solo per trovarlo illuminato ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah madonna, guardate, una donna ingegnere in casa ingegnere, sì ingegnere in notare la cassa del Dolby sì qui abbiamo tutte le cianfusaglie cianfusaglie là poi c'è uno squalo là guardate che carino zoomiamo 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 poi abbiamo l'altro ingegnere con le corna con le corna è capace? ho trovato il busto sono tutti là, eh madonna non ti avvicinare però come viene la telecamera amore? simpatico hai visto? la fai? penso che sì vuoi una mano? sì no allora non te la davo guardate quanti pezzi guardate io non lo smonto più adesso eh ti toccherà io monto e tu smonti sì contaci sei tu l'ingegnere dell'albero non sono l'ingegnere dell'albero sì sono l'ingegnere dell'albero dici dici ingegneri va va ti do una mano va 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 madonna mia salve guardate guardate un alieno vedete che sei un alieno allora ti dico guarda adesso o a sinistro? con nessuna delle due dai muoviti dai che arriva il Natale l'albero ancora là la festeggiamo mentre facciamo l'albero sì no mi lo toco come bellissimo l'albero ok molto veloce mhm ah come amore pi come bacioci e come canzone di per amore che bello è natale mi piace tantissimo i regali è natale è natale si può fare di più lo sai anche tu ma non ne ho voglia stavo dicendo ma è anche quella di aprile inizia a mettere così finiamo domani mattina stavo dicendo che è bellissimo il natale ti adoppi i regali i parenti i parenti chiediamo i parenti in casa a natale tutti dai magari li vedi solo una volta all'anno che ti freddo ma si che ti freddo poi il vero senso del natale è quello è stare tutti insieme festeggiare mangiare insieme cambiarsi i regali farsi gli auguri poi arriva la nonna con la betoniera piena di cozzate mangiala mangiala poi vai a digerire il capodanno forse no per il capodanno ancora si mangia forse per Pasqua è per 2025 hai digerito forse c'è ancora quel pezzo di orso là dentro il capodanno solo dai li vedi con gli alberi dai davvero serio non sto dicendo la sfidata il natale è bellissimo si e quello è il vero senso comunque se tu stai guardare quello è il senso della fare stare tutti insieme a festeggiare si è l'unico momento in cui tutta la famiglia si conosce va alla puntina secondo voi chi è che l'ha raddrizzata la punta allora lei è un metro navigo io sono un pochino più alto e ti arrivi amore prova io io tec però io prendo la sedia lascia stare la sedia lascia stare la sedia non ci sto albero dai adesso buono ma io non ho una zarrina eh buo ho già fatto io ho già fatto oh ok oh ti faccio una moscella lo faccio per te oh che bello come stai dicendo una balla ma è fantastico ti si capisce quando menti e quando dici la verità mi stai andando vado a arrampiccarti sull'albero stai prendendo in giro? no non dico sono un gatto ehm adesso tra qualche secondo inizieremo a montare sugli addoppi ma com'è concentrato ragazzi mi piace per quello che lo faccio con questo si amo ma è spennacchiato gli mancano i pezzi è inutile che continui a cercare di strappare che poi ti rimangono i rami in mano no dove è quello che sei qua guardate qua guardate qua tre li ha già persi è anziano ragazzi no due ne ha persi non tre uno c'era mi sembra che eh perché l'aveva già perso ogni anno guarda un ramo più o meno sta iniziando perché ha già i suoi quindici anni ah va ci vediamo tra poco con gli addoppi e poi la puliamo sotto aspetta però non ho partito dall'altro qui scusami sono io che mi sono aspetta vai dai va su su vuoi scendere? sono finite sto scendendo guarda che sto scendendo guarda che sto scendendo e qua non ti metti sono già le armi finito questo rischio di stare in alto è la base quella più larga dove non ti passano le luci se le metti tutte in alto qua non hai messo niente tutte qua le hai messo eh appunto per quello che ti dico che volevo mettere eh le puliamo no 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 le palline adesso qua ecco viviamo pentiniamo con il resto qua iniziamo a montare le palline non c'è rino guardate che carina wow wow questo è proprio bello non c'è rino, metti la latte dove? non c'è rino aspetta stiamo bene in alto tu la pastellina abbiamo ancora una mezz'ora ragazzi ci vediamo tra poco a dopo e viva viva Natale viva Natale anche la pazienza adesso cosa stai facendo? mettendo la barba la barba la barba ma come non si fa così? nooo ascolta dai mettiamo la sciarpa che stupidino ma no non si fa così ecco come farebbe l'albero mi fai un pantaloncino ahah guarda dopo se la freddo il rosso mettilo sotto sotto lì lì sotto il verde poi prendi tipo questo questo si spellacchia mettilo sopra notare bene sciarpetta l'ho messo proprio in un modo fantastico e poi manca la punta punta in teoria si andrebbe insomma una coppia messa insieme il problema è che io sono bassa salve sai quanto sono tu? dai io oh mio dio ci ingigliamo dai c'è ma si può essere così dai vecchia giocatta bassi si 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 aspetta e avvicina la segna si è bassa o? ma come? piega la punta non è tra tutto no è così non è proprio questa amore è troppo lunga la punta vai vai ok ok bene è bene è buono è buono eh va bene e poi c'è il pappazzino di natale scarpetta, stivaletto più carino scarpetta, lascia scarpetta abbiamo il cavalluccio il fiocco qui con le perline questo è il nostro albero di natale un po' anzianotto e poi dovrebbe esserci lo sto cercando, è il cuoricino quello che ci ha regalato la mamma tu ti ricordi dove l'ho messo? no, l'ho messo da qualche parte in giro non è questo? no, è rosso oddio, l'hai coperto ce l'aveva freddo ah vai, ho buone istruzioni ok buona buon setto non è già vista, non è già visto è rosetto cacchio ridi signore vi auguriamo un felice natale un saluto e un abbraccio visto che non abbiamo fatto la presentazione da Fefe e Cucò e scusate, vabbè, ora sapete la presentazione l'abbiamo fatta a fine video e di nuovo vi auguriamo un felice natale speriamo che il video vi sia piaciuto lasciate tanti commenti se vi va iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram e ci vediamo la prossima con una nuova avventura ciao a tutti un grosso saluto e abbraccio da Sete e Cocò ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti